musica 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 benvenuti a palazzo tra i monti e i laggi vi aspettiamo tutti il 28 di agosto dalle ore 16 nel parco Quimieta appunto qui in centro della città vi abbiamo preparato un spettacolo un grande così come ci piace sempre a noi qui nel canale Yiris TV per voi sarà Ferra Metrano il nostro grande cantante di Urban Pop e tanti altri invitati quindi vi aspettiamo tutti il 28 di agosto dalle ore 16 nel parco Grimietta in centro a Balabio per voi è stato Irina Tirdea Yiris TV Ciao! 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 Iris Talent Show 2021 a Balabio 28 di agosto che ci sono ! C'è un'altra tesza un'altra tesza c'è un'altra il coi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.